Avvocato Dolores, quali sono le competenze richieste a un legale in house oltre a quelle giuridiche? Sicuramente una grande attenzione, passione, dedizione e interesse per il business che si viene a seguire. Le competenze giuridiche chiaramente sono trasversali ma essendo avvocati in house si è parte di un sistema azienda, di un'azienda che quindi lavora all'interno di una determinata industria e quindi se non si ha un forte interesse, una forte voglia di conoscere il mondo per il quale si lavora a fin dei minimi dettagli, così da essere non solo legal counsel o in house legal counsel ma dei veri e propri business partner per la crescita dell'azienda, si rischia di fare un lavoro che diventa solo fin troppo formale e limitato. Quindi grande passione, grande attenzione, grande voglia di approfondire, grande voglia se vogliamo anche fare più di quello che i nostri studi ci hanno insegnato a fare. Grazie Avvocato.